Grazie Presidente, direi che possiamo partire con la presentazione del rapporto, in particolare dalle slide, anche la prossima. Dunque, quello che abbiamo fatto, come diceva il Presidente, è di gettare uno sguardo su dinamiche di più lungo periodo. Naturalmente la pandemia sta ancora causando gravissimi problemi ai sistemi manifatturini mondiali, ma in un certo senso sta anche accelerando tendenze dinamiche che erano presenti nel sistema internazionale italiano da tempo. Nella prossima slide possiamo vedere come i tassi di crescita del valore aggiunto manifatturiero nel mondo dopo la crisi finanziaria del 2007-2008 e a parte l'anno di ripresa del 2010, si sono tenuti costantemente al di sotto della media del primo decennio di questo secolo. E quindi questo naturalmente fa sì che i sistemi manifatturieri si espandano a ritmi più lenti e per un sistema come quello italiano, che fa dell'export un perno centrale della crescita, senza altro, ma anche della sostenibilità complessiva dell'economia italiana. Non dimentichiamo mai che i 420 miliardi di export della manifattura italiana del 2019 sono una componente essenziale della sostenibilità anche finanziaria del sistema italiano, anche sui mercati internazionali. Quindi una manifattura che sta crescendo meno a livello mondiale per fenomeni che riguardano le trasformazioni anche dei paesi emergenti. E nella slide successiva possiamo vedere come, se andiamo a guardare le tendenze del commercio internazionale nel periodo pre-crisi finanziaria e dopo, notiamo una chiara rottura strutturale. Questo significa che le imprese italiane sono comunque costrette a competere in un ambiente internazionale molto duro e molto competitivo anche rispetto al periodo della cosiddetta età d'oro della globalizzazione. E se andiamo avanti con le slide, le tensioni commerciali tra l'altro nel sistema globale, come sappiamo, sono aumentate negli ultimi anni. Qui possiamo vedere quello che è stato il frutto delle politiche commerciali degli Stati Uniti a partire dal 2016 con l'ultima amministrazione americana. Come vedete c'è un impatto forte delle politiche commerciali e delle tensioni commerciali transpacifiche sulle importazioni degli Stati Uniti, che ha reso, come sappiamo, l'ambiente internazionale comunque più complesso dal punto di vista delle relazioni commerciali. Se andiamo ancora avanti, un'altra tendenza che si è andata fermando nel tempo, che stiamo monitorando e che ci sembra interessante, anche se richiede naturalmente approfondimenti, è quella del fenomeno del cosiddetto reshoring o near-shoring, ovvero il fenomeno che in qualche modo sta riconducendo dopo, come dire, gli anni della globalizzazione rampante, piano piano alcune attività produttive verso l'Europa, dalla quale si erano allontanate alla ricerca sostanzialmente i vantaggi di costo. Se vedete questa tabella, potete vedere come l'Europa, tra le grandi macro aree, è quella che guadagna in termini netti la maggior parte di attività manifatturiere, sulla base appunto di banche dati che in qualche modo misurano questa attività di reshoring, mentre l'Asia è la macro area dove dopo l'impulso della fine, diciamo, del decennio, dell'ultimo decennio del 1900, si sta in parte contraendo la localizzazione di attività produttive da altre aree. Se andiamo avanti, possiamo vedere come anche dalle nostre stime, questo ci sembra un dato interessante, da stime compiute anche da altri istituti internazionali, dopo una lunga discesa dell'impatto del fattore distanza come vincolo agli scambi, che sostanzialmente, come vedete, è partita da dopo l'ingresso della Cina nel WTO nel 2001. Per molti anni abbiamo assistito appunto ad un minore impatto, minore vincolo dell'elemento distanza sugli scambi mondiali. Negli ultimi anni, negli ultimi tempi, vediamo che c'è un ritorno, in qualche modo, dell'elemento distanza nel vincolare, in qualche modo, gli scambi. Quindi gli scambi si stanno tendenzialmente concentrando sempre di più su piattaforme, su aree continentali, il che non significa naturalmente che la globalizzazione non riprenderà fiato, non significa che l'Asia non sia potenzialmente, in prospettiva, l'area più dinamica del mondo, ma significa che c'è una tendenza a ricondurre, almeno in parte, gli scambi verso piattaforme, verso dimensioni continentali. Se andiamo ancora avanti, ecco, in questo contesto, come sappiamo, come abbiamo ripetuto più volte, come condiviso da tutti, l'Italia continua a fare molto bene, perché in un ambiente più complesso, con queste trasformazioni in corso, con tensioni commerciali che negli ultimi anni hanno interessato, direi, tutto il commercio internazionale, l'Italia ha guadagnato posizioni dal 2015 in termini di ranking dei principali esportatori internazionali, dei principali produttori internazionali, e le ha mantenute, il settimo produttore industriale a livello internazionale, come sapete, è sempre in una posizione molto forte in termini di paesi esportatori e manufatturieri. Nella prossima slide possiamo vedere come, anche misurando la competitività dell'export dei diversi paesi, delle diverse aree economiche, anche nei settori, nei principali settori manufatturieri, vediamo che comunque l'Italia mantiene posizioni molto forti, assieme alla Germania, ad altri paesi europei e con naturalmente l'ingresso prepotente anche della Cina nel panorama dei principali esportatori. Qui parliamo di indicatori qualitativi che, oltre alla dimensione delle esportazioni, guardano anche al grado di diversificazione, alla specializzazione, alla competitività, eccetera. In molti settori l'Italia è tra i primi tre esportatori a livello mondiale in termini di performance dell'esportazione. Bene, tutto questo naturalmente ci porta a chiederci come in prospettiva il sistema manufatturiero italiano potrà competere, come si è organizzato, si è ristrutturato in questi anni per competere in un ambiente produttivo e competitivo internazionale, molto sfidante. Sappiamo naturalmente che il sistema industriale continuamente ha compiuto aggiustamenti, adattamenti e a volte ha anche anticipato, come vedremo tra poco, alcune tendenze delle trasformazioni in atto. Penso per esempio alla grandissima performance del sistema manufatturiero in termini di sostenibilità ambientale, ma l'altro aspetto che ci interessa è naturalmente cercare un po' di indagare quello che è il panorama produttivo, il panorama manufatturiero italiano e qui passerei alla seconda parte della presentazione. Allora, se andiamo avanti possiamo cercare di capire appunto qual è stata un po' in questi anni la dinamica sia demografica sia delle performance della manufattura italiana. Bene, intanto sappiamo che, come è stato anticipato prima dal Presidente, la manufattura italiana ha mostrato nel terzo trimestre di quest'anno, dopo un crollo senza precedenti, dovuto al lockdown e comunque alle misure di distanziamento, ha avuto una performance che non ha uguali in Europa in termini di rimbalzo della riduzione industriale nel terzo trimestre, l'unico paese tra i grandi che è andato, seppur di poco, sopra i livelli pre-crisi. Adesso sappiamo che di nuovo abbiamo una piccola sessione che possibilmente ci porterà ad una recessione che speriamo breve e moderata nel quarto trimestre, ma se andiamo avanti vediamo come dopo la crisi finanziaria, che naturalmente ha pesato molto sul sistema manufatturiero italiano e dopo anche gli effetti della crisi dei debiti sovrani nel 2011, il sistema manufatturiero italiano anche in termini di occupati ha fatto altrettanto bene della Francia e dell'Eurozona e molto meglio della Spagna in termini di occupati. Naturalmente sappiamo che la Germania ha una performance nettamente migliore. Andando avanti, quello che ci siamo chiesti è un po' come nel tempo queste performance del sistema industriale italiano siano state anche accompagnate da trasformazioni strutturali in termini appunto di demografia e di composizione dimensionale del sistema italiano. Beh, qui la storia del dopoguerra è di una prima fase nella quale la dimensione media di impresa nei vent'anni che vanno dal 1951 al 71 è cresciuta e quindi abbiamo avuto imprese industriali di dimensioni maggiori fino all'inizio degli anni 70, con poi invece una flessione che ha coinciso col periodo d'oro della cosiddetta Terza Italia dell'industrializzazione del modello del nord-est di un'industrializzazione diffusa che ha avuto naturalmente dei risultati eccezionali in quegli anni le piccole e medie imprese italiane hanno esportato moltissimo sono state fattori di grande dinamismo questa progressiva riduzione della dimensione media di impresa è andata avanti anch'essa per circa 20 anni fino all'inizio degli anni 90 quando direi la combinazione dell'avanzare della globalizzazione e di anche un'innovazione tecnologica che ha richiesto uno sforzo diverso e nuovo da parte delle imprese in termini sia dimensionali che organizzative ha stabilizzato questa caduta della dimensione media di impresa e piano piano ha riportato invece un leggero aumento della dimensione media negli ultimi anni questo lo leggiamo anche nella prossima slide se vediamo da una parte il tema della demografia di impresa che comunque anche nonostante i risultati che ha avuto in termini di export dal 2017 si è contratta in termini di numero di imprese e abbiamo circa 32.000 imprese in meno imprese manufatturieri in meno dai dati appunto del licensimento industriale tra 2017 e quest'anno ma soprattutto nella prossima slide nella trasformazione appunto dell'articolazione dimensionale del sistema produttivo italiano che come vedete vede un progressivo calo una progressiva diminuzione nelle classi lo leggete nell'ultima colonna nelle classi di impresa manufatturiera micro, piccola e diciamo medio piccola che hanno visto una diminuzione del numero di imprese attive negli ultimi anni e invece un aumento nelle ultime due classi dimensionali che sono le classi dimensionali delle imprese medie e medio grandi Ora, questo fenomeno che naturalmente ha l'aspetto anche di avere razionalizzato in parte il sistema, di aver prodotto, di aver contribuito all'aumento della produttività del sistema manufatturiero negli ultimi anni però non si è accompagnato a un mantenimento del perimetro dell'industria italiana questo lo vediamo nella prossima slide dove abbiamo no, qui di nuovo vediamo come c'è una tendenza a una minor frammentazione del tessuto produttivo lo vedete sia dal rapporto del valore aggiunto per impresa che è la linea diciamo gialla che è cresciuta negli ultimi anni ma anche del rapporto tra il valore aggiunto e la produzione che ci indica negli ultimi anni una riduzione della frammentazione il valore aggiunto rispetto alla produzione è in aumento perché significa che la frammentazione del processo industriale è andata in parte riducendosi questo però, ripeto, ha coinciso e questa è la prossima slide con una riduzione del potenziale manufatturiero italiano e questo ci sembra l'aspetto più preoccupante naturalmente parte di questa figura e questo grafico è calcolato come rapporto tra la produzione effettiva e il grado di utilizzo e la capacità produttiva che come sapete è un indicatore che l'ISTAT produce autonomamente sulla base di survey che naturalmente hanno i loro limiti ma che ci danno un'indicazione di come appunto rapportando il valore della produzione al grado effettivo, al grado di utilizzo abbiamo una misura di quella che è la potenzialità della capacità produttiva manufatturiera italiana che si è andata riducendo in parte naturalmente di nuovo a seguito delle due crisi del 2007 e del 2011 e che negli ultimi anni è aumentata anche grazie ai piani di investimento Industria 4.0 e al ritorno dell'investimento industriale questo per dire che la narrazione con la quale siamo stati abituati a ragionare qualche anno fa di una necessità di in qualche modo traghettare in maniera anche abbastanza rapida il sistema delle piccole imprese italiane verso dimensioni più grandi che naturalmente è assolutamente auspicabile deve in qualche modo soprattutto in questa crisi pandemica confrontarsi con la necessità di avere cura del sistema manifatturiero per quello che è il sistema manifatturiero potrebbe essere diverso potrebbe essere migliore ma abbiamo un sistema manifatturiero che vede ancora la presenza importante di piccole e medie imprese che tra l'altro molto spesso fanno benissimo sui mercati internazionali sono ottimi esportatori che naturalmente hanno però dei vincoli dimensionali e il tema è senz'altro di accompagnare la transizione dimensionale come in parte è già avvenuto ma di accompagnarla in maniera graduale e direi con molta attenzione a sostenere e a fare in modo che il tessuto delle piccole e medie imprese venga potenziato in tutta la sua dimensione e che quindi ci sia la capacità da parte dell'industria da parte del sistema finanziario da parte della politica economica di sostenere tutto il sistema produttivo altrimenti il rischio appunto è quello di avere come dire magari un po' più di efficienza ma a scapito di un perimetro industriale che soprattutto in questa congiuntura internazionale complessa rischia di contrarsi il che sarebbe preoccupante per l'economia italiana nel suo complesso non dimentichiamo che l'industria è comunque uno dei motori insieme alla finanza negli ultimi anni dell'aumento dell'efficienza della produttività del sistema economico italiano se andiamo avanti questi sono i dati che conoscete che riguardano il mercato del lavoro in questa crisi naturalmente come sappiamo i provvedimenti del governo sia di cassa integrazione che di blocco di licenziamenti hanno congelato per il momento il numero degli occupati mentre sappiamo che inevitabilmente gli altri indicatori di ore lavorate di ore aggiunte di produttività quest'anno sono in flessione se andiamo avanti allora l'industria tutta si sta trasformando si è trasformata in questi anni questo è un grafico che diciamo amiamo molto in particolare e ci piace ripeterlo ci piace ripresentarlo che ci mostra come il il modello il il percorso di transizione 4.0 di industria 4.0 4.0 prima e di transizione 4.0 dopo abbia comportato un aumento della maturità digitale di tutto il sistema produttivo italiano è stato è stato un è stato ed è un meccanismo importante che diffonde in tutto il sistema le capacità le competenze e anche le tecnologie idonee per accompagnare per far sì che le imprese crescano in questo processo di maturità digitale come vedete come vedete il nel grafico nelle linee più scure blu sono state beneficiari dell'iper ammortamento nel 2017 anche un gran numero di imprese che avevano un livello di partenza digitale molto basso basso quindi questo programma è un programma che sta aiutando ha contribuito ad elevare le competenze la competitività e le capacità di tutte le imprese che hanno partecipato e quindi anche di quella quota di piccole e medie imprese che è importante in qualche modo accompagnare in questi percorsi se andiamo avanti la questo si vede naturalmente con più lentezza ma in maniera comunque significativa anche dai profili occupazionali dentro le imprese manifatturiere che nel tempo hanno visto per esempio un aumento della componente del lavoro impiegatizio quindi di ruoli e di figure che dentro le imprese manifatturiere si stanno occupando si occupano di svolgere mansioni che sono mansioni che hanno a che fare con la gestione degli impianti con gli aspetti di digitalizzazione e di organizzazione industriale andando ancora avanti la trasformazione come dicevo prima del sistema manifatturiero italiano ha mostrato in questi anni degli effetti direi davvero sorprendenti anche in termini di sostenibilità dell'industria italiana e anche questo ha riguardato imprese grandi medie e piccole l'Italia il sistema industriale italiano è il terzo al mondo in termini di capacità di recupero dei rifiuti speciali e ancora avanti è un sistema che ha una impronta carbonica cioè una produzione di CO2 per migliaia di dollari di valore aggiunto manifatturiero che è tra le più basse al mondo ed è molto più bassa della media europea quindi è un sistema che rispetto alle trasformazioni in corso e quella ambientale naturalmente fondamentale è un sistema assolutamente efficiente e se andiamo ancora avanti questo non è dovuto soltanto alla specializzazione dell'industria italiana che potrebbe essere orientata verso settori meno inquinanti ma con un'analisi shift share che distingue il contributo della composizione settoriale e le capacità di essere efficienti in termini ecologici dentro i diversi settori industriali l'Italia rimane un sistema industriale assolutamente efficiente non solo in termini di specializzazione ma anche in termini di efficienza diffusa per quanto riguarda la sostenibilità ambientale andando avanti e naturalmente mi avvio alla conclusione vorrei semplicemente lanciare e lasciare qualche spunto per il dibattito che seguirà nella prossima slide comincerei da quello che è un po' il tema uno dei temi che naturalmente è più all'attenzione in questo periodo ed è il tema che riguarda naturalmente da una parte le esigenze di liquidità che in questo anno si sono manifestate in maniera imponente dentro il sistema manifatturiero e che come vedete nel corso dei mesi hanno condotto a una carenza di liquidità stimata a dicembre di quest'anno intorno ai 20 miliardi per il sistema manifatturiero del suo complesso ma anche nella slide successiva a quello che come sappiamo da nostre stime sulla base dei dati della task force sul che lavora col fondo di garanzia Banca d'Italia e anche Mediobanca un aumento naturalmente come sappiamo dell'indebitamento con prestiti bancari che rimane naturalmente la componente più importante del finanziamento delle imprese industriali in Italia a fronte appunto di una componente invece di emissione di titoli che resta più moderata e naturalmente una riduzione di capitale che quest'anno si manifesterà la nostra stima è che la quota dell'indebitamento delle imprese industriali alla fine dell'anno aumenterà di circa due punti e mezzo rispetto al totale delle passività del sistema industriale e se andiamo avanti questo è naturalmente un tema di attenzione se andiamo avanti rapidamente qual è un'altra questione che naturalmente sarà fondamentale per il sistema manifatturato italiano che esporta molto verso i paesi europei ma come vedete molto meno verso l'Asia in particolare la Cina che rimarrà naturalmente uno dei paesi delle aree a più alto tasso di sviluppo nei prossimi anni allora qui il messaggio è che l'industria italiana ha come obiettivo quello di connettersi ancora di più già lo fa moltissimo ma di connettersi ancora di più con i sistemi produttivi europei in particolare quello tedesco e francese che sono ad oggi le vere piattaforme di esportazione verso l'Asia e in particolare la Cina quindi sarà importante per tutto il sistema produttivo ribadisco avere la capacità e le competenze per aumentare ancora il grado di interconnessione in termini di filiere con il sistema produttivo degli altri grandi paesi manifatturati europei che a loro volta saranno diciamo ancora più importanti come poi ultimo esportatore verso l'Asia orientale e andando avanti cosa abbiamo di fronte abbiamo di fronte naturalmente delle stime di necessità di opportunità di investimento nei prossimi anni alcune abbiamo fatto in Confindustria riguardano gli investimenti stimati per la transizione energetica fino al 2030 altri sono della Camera dei Deputati per quanto riguarda le necessità di investimenti infrastrutturali naturalmente questa sarà parte fondamentale dello sforzo che tutto il paese dovrà fare rispetto al quale naturalmente la politica avrà un ruolo importante nel come dire coordinare e nel organizzare in maniera efficiente questi processi andando avanti ecco un altro elemento che naturalmente chiede attenzione è quello della nostra capacità brevettuale che rimane comunque bassa anche per esempio per quanto riguarda i brevetti cosiddetti green dove abbiamo visto l'industria italiana è super efficiente ma brevettiamo ancora poco qui Confindustria come sapete ha tutta una serie di proposte su come migliorare tutta la filiera della della ricerca dell'innovazione e anche della brevettazione partendo dai technology transfer office per andare poi a un rafforzamento del patent box eccetera e questo naturalmente è importante perché poi in termini di valore aggiunto dove si brevetta e come si brevetta è fondamentale per il valore aggiunto dei sistemi industriali e avviandomi alla conclusione gli ultimi slide riguardano anche quello che ci aspetta dal punto di vista del cambiamento del lavoro noi avremo secondo Stima del World Economic Forum un turnover incredibile nei prossimi anni in termini di nuovi lavori creati e di posti di lavoro cancellati a seguito delle trasformazioni tecnologiche e organizzative e soprattutto un'esigenza incredibile di training per quanto riguarda i lavoratori training retraining riallocazione eccetera e come sappiamo e qui è l'ultima slide che in parte è in inglese perché abbiamo aggiunto all'ultimo l'Italia come sappiamo è carente ancora è lontana dai principali partner europei in termini di percentuale della spesa per training sia sul PIL sia in termini delle politiche attive del lavoro che a loro volta in Italia come sappiamo occupano una quota troppo bassa della spesa pubblicare quindi come dire dobbiamo prepararci assolutamente e da questo punto di vista aspettiamo direi i progetti del governo per il Next Generation Europe perché alcuni elementi su cui Confindustria da tempo sta richiamando l'attenzione il potenziamento degli istituti tecnici superiori le lauree professionali anche l'educazione l'istruzione secondaria superiore di tipo tecnico vocazionale servono alle imprese che hanno dei fabbisogni di competenze che ancora non sono soddisfatti ecco io con questo avrei concluso che sono soddisfatti che sono soddisfatti Grazie a tutti